Mika Niewicz, CT Polonia. Inviato ad Ola Polonia fiuta il colpo. Se riesce a fermare l'Argentina, passerà il turno per la prima volta dal 1986. Le basta un pareggio grazie ai quattro punti conquistati nelle prime due partite. Insieme a Brasile e Marocco, è la nazionale che non ha ancora incassato gol. Il CT, Kzeslaw Mika Niewicz, osserva, sono molto contento del nostro lavoro difensivo. Ora vogliamo andare avanti. Quando abbiamo visto il sorteggio, sapevamo che la partita con l'Argentino sarebbe stata piena di fascino. E così sarà. Lewandowski e Messi? Ecco chi è il migliore e gli chiedono della sfida tra Lewandowski e Messi. Chi è il migliore? Non sta a me rispondere, non è importante. Ma sarà una partita tra due squadre. Non tra singoli. E su Leo, Mika Niewicz osserva, Messi è in campo come Alberto tomba su una pista da sci. Se parte in slalom è difficile fermarlo. Tutti ci provano ma lui continua a segnare e a erogare assist. Evidentemente non è così facile fermarlo. Detto ciò, sono andato allo stadio a vedere la loro partita contro il Messico. Ho apprezzato la tattica difensiva del Messico, che ha lasciato pochissime occasioni all'Argentina. Il problema è che quando hai messi non ti servono tante chance. Virgola.